Il sentiero detto sentiero del tibetano è un nuovo percorso che permette di raggiungere il territorio di Sant'Anna d'Alfaedo partendo da Maga Biancari, situata invece nel territorio di Marano di Valpolicella. Per raggiungere la Malga in auto o a piedi il percorso è semplice, non appena superata la frazione di San Rocco di Marano sulla sinistra si trovano alcune segnaletiche che conducono alla località Girotto. A metà di tale tratta è necessario passare sull'ormai turisticamente famoso ponte tibetano che collega i due comuni veronesi i cui territori si estendono ai lati della Val Sorda e che quindi funge da vero e proprio confine. Il ponte tibetano straordinaria opera di ingegneria sospesa a funi tra sfonde opposte è la prima realizzazione del genere in Veneto, anche tra le rarità nel nostro paese. Esso è stato pensato per collegare il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello di Sant'Anna d'Alfaedo. Ha un'altezza massima sul vaio sottostante di 40 metri, è lungo 52 metri e largo 70 centimetri. Possiede un umano a 120 centimetri e consente la doppia percorrenza di due persone che si incrociano. Questa opera è sostenuta da quattro funi, a loro volta formate da una catenaria di quattro fili d'acciaio del diametro di 22 millimetri ciascuno. Per gli amanti della natura, ma anche per i bambini che vogliono provare l'ebbrezza di una camminata nel vuoto in tutta sicurezza, il sentiero del tibetano con il suo mirabile ponte rappresenta un momento assolutamente unico per dare libero sfogo la propria voglia di avventura.